Eminenza, Papa Francesco visita l'Egitto a meno di tre settimane dai sanguinosi attentati alle chiese copte della Domenica delle Palme. È un Papa di pace in un Egitto non certo in pace. Quale messaggio potrà portare in una terra che sembra annichilita da tanta violenza? Tanti hanno pensato che Papa Francesco, dopo i sanguinosi e brutali attentati che hanno scosso l'Egitto in quest'ultimo periodo, in queste ultime settimane, avrebbe forse messo in discussione il suo viaggio in quella terra. Invece il Papa non ha mai pensato di farlo, proprio perché il Papa vuole rendersi presente, vuole essere lì dove ci sono situazioni di violenza, ci sono situazioni di conflitto, in questo caso proprio in Egitto. E vuole essere appunto messaggero di pace, messaggero di pace dove c'è più bisogno di pace, dove c'è più bisogno appunto di annunciare e di operare per la pace. E certamente lo farà con la sua parola, avrà occasione di farlo con la sua parola nei vari incontri, ma lo farà soprattutto e prima di tutto con la sua presenza. Ecco, una presenza di vicinanza, una presenza di solidarietà, una presenza di incoraggiamento. Quindi il Papa va proprio perché, ecco, l'Egitto ha bisogno di qualcuno che annunci la pace e cerchi di operare per la pace. Il governo egiziano potrebbe fare di più per proteggere le minoranze cristiane dagli estremisti o l'unica strada per fermare il terrorismo è quella dell'educazione delle coscienze e dei giovani? Il governo deve fare tutto il possibile appunto per proteggere i suoi cittadini, i cittadini egiziani a qualunque gruppo sociale, a qualunque gruppo religioso appartengano. Ecco, è proprio del governo assicurare, garantire la sicurezza per i suoi cittadini attraverso appunto l'opera di tutti i suoi apparati, di tutte le forze dell'ordine, eccetera. Però evidentemente quella del terrorismo è una sfida molto molto più ampia che non si risolve solo a livello di sicurezza o che non si limita solo a livello di sicurezza. È una sfida che impegna a rimuovere un po' tutte quelle che possono essere le cause del nascere, dell'alimentarsi, del terrorismo. Ed evidentemente anche il governo, anche le autorità devono impegnarsi su questo fronte. Un fronte però che chiama, che convoca l'impegno di tutta la società, ecco, soprattutto quello che lei ricordava e cioè l'impegno dell'educazione, nell'impegno dell'educazione, quindi la famiglia, quindi la scuola, quindi le chiese, quindi i mass media, ecco, tutti hanno una responsabilità per educare alla pace e togliere appunto quelle che possono essere le cause di questo fenomeno, soprattutto nei confronti dei giovani. Quindi dare loro un senso della vita, proporre loro dei valori per i quali vale la pena vivere, impegnarsi e lottare e non invece appunto perdersi in questo vortice di violenza e di distruzione che è davvero insensato. Papa Francesco, insieme al Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, incontrerà una delle voci più ascoltate dell'Islam sunnita, l'imam di Al-Azhar. Possiamo aspettarci un appello comune alla pace rivolto ai credenti di tutte le fedi? Io credo di sì che ci sarà un appello, si esprimerà un impegno comune, diciamo, dei cristiani e dei musulmani in favore della pace. E questo incontro sarà già, diciamo, un esempio e un modello di pace, perché appunto sarà un incontro di dialogo. Come sappiamo, il dialogo con l'Università di Al-Azhar è ripreso, diciamo, in maniera formale l'anno scorso, il 23 di maggio, mi pare, 2016, quando lo sceic è venuto a visitare il Papa. Poi c'è stata una conferenza, sempre patrocinata da Al-Azhar, sulla, mi pare, la cittadinanza e la libertà, che ha portato, dove ha partecipato anche il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, che cura appunto questo dialogo con Al-Azhar, dove è stata firmata una dichiarazione invitando tutti a rifiutare la violenza in nome di Dio, invitando al rispetto e alla convivenza pacifica tra cristiani e musulmani sulla base dello Stato di diritto, sulla base dell'uguaglianza e sulla base anche del concetto di cittadinanza, un altro concetto importante da sottolineare. Quindi, ecco, un po' questo incontro si colloca in questa sia, ci sarà anche una conferenza, appunto una conferenza sulla pace, anche questa volta patrocinata da Al-Azhar, alla quale parteciperà il Papa con un discorso e poi adesso appunto anche il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. Quello che il Papa ha sempre detto, l'ha detto fin dall'inizio del suo Pontificato nell'Evangelii Gaudium, che il dialogo è indispensabile, il dialogo è fondamentale per la pace nel mondo e che tutte le religioni devono sentirsi impegnate a lavorare in questo senso. E' questo dialogo che deve diventare un incontro, ecco, un incontro e una collaborazione per il bene comune. Penso che questa occasione che avrà il Santo Padre di incontrare Al-Azhar e le sue autorità andrà proprio in questo senso, nel senso di riproporre ancora una volta il metodo e la strada del dialogo e dell'incontro come metodo per superare le contrapposizioni e le violenze che possono sorgere, purtroppo, in nome della religione, manipolando la religione stessa. Ma come fermare il proselitismo dei fondamentalisti? La questione fondamentale è l'educazione, è l'educazione, ecco, quindi educare gli appartenenti alle varie religioni, soprattutto i bambini e i giovani, a un atteggiamento di grande rispetto nei confronti delle altre fedi, ecco, quindi parte da lì, parte da lì. Io credo che la questione del linguaggio è fondamentale. Quando si usa un linguaggio violento c'è appunto il pericolo che questo possa poi portare a degli atti violenti. Quando invece si usa un linguaggio di pace, un linguaggio di rispetto, un linguaggio di riconciliazione, certamente questo produrrà i suoi frutti, diciamo, positivi. Quindi il proselitismo si combatte ancora una volta con l'educazione al rispetto, alla tolleranza e all'accettazione reciproca. L'incontro con la Chiesa Copta Ortodossa Martire sarà un'altra tappa del cammino dell'ecomunismo e della sofferenza. Ma una nuova comunione potrà scongiurare l'esodo dei cristiani da quelle terre? Noi lo speriamo vivamente e credo che è proprio questo appoggio che i cristiani anche d'Oriente e del Medio Oriente devono sentire da parte dei loro fratelli dell'Occidente che potrà aiutarli anche a rimanere nel loro paese nonostante le difficoltà e continuare a dare la loro testimonianza cristiana in mezzo a una società, diciamo, che è di fede islamica nella sua grande maggioranza. E io credo appunto che l'apporto dei cristiani sia veramente importante, sia decisivo. Possono dare un contributo in tutti i sensi che per la costruzione della società e per una convivenza più armoniosa, serena e pacifica anche all'interno della società. E questa comunione, ecco, è in un certo senso cementata e rafforzata e consolidata proprio da quello che il Papa chiama l'ecumenismo del sangue. E questa violenza che si scaglia contro i cristiani in quanto cristiani, al di là delle loro, delle loro, diciamo, differenze, differenti appartenenze, diciamo, confessionali. Ecco, perché credenti in Cristo, perché discepoli di Cristo sono fatti oggetto di questa violenza, torno a dire, davvero brutale e insensata. Allora, certamente l'incontro con Papa Tavadros e con la comunità copto-ortodossa che in questi ultimi tempi ha tanto sofferto cementerà, appunto, ancora di più la comunione, che esiste già, c'è un buon rapporto, ecco, del Santo Padre, della Chiesa Cattolica con la Chiesa copto-ortodossa, che è la più grande comunità cristiana nel Medio Oriente, ecco, lo cementerà. E tutto questo servirà, penso, a dare loro maggiore coraggio a non sentirsi abbandonati e quindi anche a perseverare nella loro presenza nel Paese, nella loro testimonianza. La visita si chiuderà con l'incontro con la piccola comunità copto-cattolica. È una fiammella che porta una testimonianza della croce ma anche dell'unità possibile? La comunità copto-cattolica è una comunità piccola, come lei ha detto, una fiammella, molto bella questa immagine. Il Papa va, ecco, a aiutare anche, a confermare nella fede perché questa fiammella non li languidisca e non si spenga ma continui ad ardere, anche se è una piccola fiammella, continui ad ardere in quella società e continui a portare, appunto, il suo contributo. Quindi sarà un incontro con la famiglia dei cattolici, sarà un incontro per incoraggiarli ad andare avanti nella loro testimonianza di ogni giorno.